L'inflazione e i prezzi sempre più alti hanno spinto i ciechi a fare acquisti all'estero, soprattutto in Polonia. I prezzi nei negozi qui sono fino al 30% più bassi, non solo del cibo ma anche di altri beni, come abbigliamento elettronica e persino mobili. L'alta inflazione nella Repubblica cieca è stata causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, che ha portato i prezzi dell'energia a livelli astronomici. Sebbene l'inflazione sia scesa dal 30 al 14,3%, è ancora una delle più alte dei paesi Ocse. La banca cesca Sporitelna, che detiene un quarto del mercato bancario cieco, ha calcolato quanto lo Stato perderà in tasse quest'anno sulla base degli acquisti con carte in Polonia, stimando perdite fino a 17 miliardi di corone. La forte corona cieca contribuisce anche a rendere più convenienti gli acquisti all'estero, motivo per cui i ciechi acquistano sempre più spesso anche in altri paesi vicini, come Germania, Austria e Slovacchia. La banca cesca Sporitelna non è riuscita a fare un'attività, perché se non si stava in oveste, non si è troppo rostro, produttiva in Polonia e in pochianici, per i stali, 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 per i stali. Giri Scanzel, Euronews, Chlaubky, Polsko. Grazie.